ciao io mi chiamo matteo come ti chiami tu io mi chiamo zaide quanti anni hai io ho otto anni e tu anch'io otto anni da dove vieni vengo dalla turchia questa è la mia amica narges ciao narges ciao matteo cosa ti piace in italia mi piace la pizza ma non mi piace il traffico a me piace anche il gelato ma non mi piace quello al cioccolato